Sempre in pausa pranzo, ma stavolta all'aperto e sotto una lieve pioggerellina perché voglio parlarvi di un film che quando è stato annunciato e se non sbaglio anche quando è uscito il trailer abbiamo pensato, ah ecco questo è un film dell'asylum con i conti gonfiati e in effetti Cocaine Orso è quella roba lì però non solo, io sono Emanuele Rauco, questo è il mio canale YouTube se siete qui per caso sono contento mettete un mi piace di incoraggiamento e iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vi arrivano i nuovi video e soprattutto fatevi un giro sul canale per trovare delle cose che vi piacciono se invece non siete già degli abbonati, magari siete già degli iscritti abbonatevi, perché? Perché stanno cominciando ad arrivare tante cose nuove e soprattutto avete la possibilità, la prima cosa, la più semplice di partecipare alle live con me, per esempio la prossima settimana la settimana ci sarà una live con Fabrizio Giovanardi che è uno degli abbonati del canale detto questo, Cocaine Burr, che sarebbe Cocaine Orso diretto da Riservet Banks è già qui la prima cosa che un po' lascia perplessi ma allo stesso tempo dovrebbe mettere, sull'attenti, sul tipo di operazione Elizabeth Banks è un'attrice, se andate su Google se già non ce la avete in mente andate su Google e ve la ricordate cioè è un'attrice con un viso piuttosto noto, diciamo che lo ricordate però ha fatto anche dei film ed erano dei film appunto delle commedie musicali commedie musicali con una forte componente femminile sembrava una di quelle registe che facevano solo film per donne e per donne giovani commedie per lo più, non neanche troppo sentimentali quindi metterla alla regia di un film in cui c'è un orso che mangia della cocaina che si è persa con una spedizione aerea è una storia vera cioè ispirato molto alla lontana della storia vera negli anni Ottanta un aereo che stava portando droga in maniera illegale evidentemente subisce un incidente e quindi si perdono decine di chili di droga e questo orso nel mezzo del bosco del Minnesota, Milwaukee, non mi ricordo se lo mangia e comincia ad andare fuori di testa e quindi a fare una strage questo è il cuore cioè l'idea del film il concept come dicono quelli bravi che studiano e qui ci sono due innesti cioè due storie parallele che poi ovviamente si prenderanno da una parte i criminali che devono recuperare questa droga persa nel mezzo del bosco e con ovviamente quindi la storia criminale quindi la polizia che sta dando la caccia a questi criminali e sta dando la caccia anche a questo orso che ha cominciato a fare il matto e dall'altra parte invece una famiglia che sta in una sorta di escursione nel bosco e appunto la figlia si perde e quindi devono andare a cercare la figlia mentre l'orso fa il suo dovere di orso on dope ora quindi c'è una sorta di parto di mostro a tre teste cioè c'è un'avventura familiare stile Hamblin poi vi dico perché Hamblin l'Hamblin sarebbe la casa di produzione di Steven Spielberg quella di Gremlins Goonies Piramidi di Paura che ha generato Giudante Navigators Explorer eccetera anni 80 avventura familiare anni 80 per ragazzi dall'altra parte ci sono dei simili fratelli Cohen dei personaggi che sono usciti dai film più grotteschi dei fratelli Cohen cioè dei fessi patentati che fanno cose da fessi patentati e giustamente c'è un orso che cerca di mangiarsi perché i fessi patentati meglio mangiarli che lasciarli in cattività in libertà scusate che cattività è per l'orso eventualmente e invece tutto questo con un sottotesto che è quello appunto di un film simile Asylum cioè l'orso assassino l'Asylum poi ovviamente ne ha approfittato e ha fatto subito uscire Cocaine Shark sullo squalo chiaramente e poi se non sbaglio c'è un'altra casa di produzione di queste di serie F che aveva fatto aveva messo in cantera non so se è uscito per caso meth gator cioè l'alligatore sotto anfetamine sotto meth ora detto questo perché dico che questo mostro a tre teste è sì un film simile a Asylum ma non solo beh allora ci sono due elementi guardiamo l'inizio e guardiamo la fine e questi sono degli elementi che ci dicono dell'operazione che operazione è poi possiamo disquisire sui risultati dell'operazione ma arriviamo a pensare all'operazione comincia con il il tizio che deve portare la droga cioè che deve paracatutarsi con l'aereo su questo dall'aereo che sta portando la cocaina e che appunto ha appena attraversato la frontiera insomma le cose criminali che sappiamo sta proprio piovendo sta proprio piovendo io sono sotto un albero quindi un po' mi riparo però forse mi conviene andare sotto sotto il il portico qui in realtà pura realtà tutta realtà per voi allora dicevo mi metto trovo un posticino qua eccomi qua c'è anche un cavallo di marmo ecco qua quindi da una parte c'è questo similato il il tizio che si deve paracatutare e balla siamo a metà degli anni 80 quindi c'è una canzone di rock bianco anni 80 quindi molto leggera molto orecchiabile lui balla e mentre sta per buttarsi dà una craniata in fronte proprio come se fosse un puro film demenziale e precipita lui con l'aereo e via dicendo e subito dopo che la vera chiave della gag non è quello che accade cioè lui che dà la botta in testa e sviene buttandosi di sotto ma che subito dopo nello stacco successivo appare ispirato a fatti veri già quello scatta la prima risata ed è quello l'elemento di commedia demenziale è una commedia demenziale dentro cui un po' sulla scena di Seth Macfarlane quindi un po' sulla scena di Griffin ci sono anche delle tecniche narrative che Macfarlane con i Griffin e non solo ha portato a un certo tipo di notorietà e di dentro il modo di raccontare di un certo tipo di immaginario comico gli inserti questi brevissimi o dei brevissimi flashback usati come contrapunto comico o ancora meglio dei momenti in cui questi flash fanno immaginare come dire i desideri dei personali ci sono degli inserti brevissimi fulcoranti che fungono da gag da micro gag visive e poi appunto quindi questa scritta qui si piatta a fatti reali dopo una sequenza del genere scatena una grande ilarità e dall'altra parte i titoli di coda i titoli di coda al di là del fatto ci sono due brevissime scene durante i titoli sono delle macchie di colore fluo diciamo di colore molto acceso molto fluo molto acetato anni 80 che percorrono tutto il rullo dei titoli e quindi ci sta dicendo qual è il mondo estetico in cui coca in orso si basa cioè in cui risiede il film è appunto cerca di cogliere di queste tre teste di cui si compone l'elemento ludico e di quell'elemento ludico che come dire ci va fino in fondo cioè l'elemento ludico dello splatter digitale che è quello appunto figlio dell'asylum per cui questo questo orso un po' nel finale adesso faccio un po' degli stessi semi spoiler nel finale con i suoi figli anche loro sotto sottobotta mangiano gli intestini staccano braccia cioè fanno delle cose che per un film se io penso un film di universo un film di una major sono veramente forti ma entrano dentro un discorso ludico e quindi possono essere utilizzate in un certo senso e gli elementi demenziali e gli elementi orripilanti si sposano e tutto è sia un gioco ma è anche un gioco idiota che cerca l'idiozia che cerca lo spirito idiota della famiglia della commedia familiare di quel senso di familismo reazionario che gli anni 80 hanno hanno reso forte attraverso quel tipo di film ma anche attraverso le sitcom sitcom familiari c'è dell'idiozia e dove è l'idiozia la va a stanare dove è l'idiozia nel modo di raccontare un certo mondo criminale questo il gioco è più facile l'hanno già fatto i coen appunto l'ha fatto Tarantino però Elizabeth Banks ma soprattutto i suoi sceneggiatori i produttori puntano lì puntano al gioco demenziale non tirandosi indietro non parandosi le chiappe attraverso come dire la scusa dell'ironia ma anzi prendendo quell'idiozia sul serio e cercando di fare le cose fatte per il meglio anche l'utilizzo degli effetti speciali per realizzare l'orso è sempre al limite tra la perfezione e la stupidità e quella stupidità fa parte del gioco perché non dico che ci sia una scelta sociologica dentro no dico che però il gioco e il gioco idiota vengono presi sul serio vengono assunti come principio e vengono portati al grado più elevato possibile poi è chiaro resta qualcuno ha definito no? un mio collega Franco D'Assisti della Rosa Popuria del Cairo su Radio 24 lo ha definito uno splatterino per 17 anni che non vedo cosa ci sia di male ma detto questo questo splatterino per 17 anni secondo me a differenza di quanto dice lui di quanto pensa lui secondo me invece riesce a far ridere e a far rabbrividire non solo quando vuole farlo ma spesso negli stessi momenti la risata e il come dire la giocosa repellenza di un certo tipo di horror di serie B C e D e F e Z stanno nello stesso cuore e soprattutto la cialtronaggine della messa in scena di quel mondo lì quello dell'asylum è sempre al limite invece con una come dire una corposità di messa in scena che invece è quella del del film di una major per quanto budget relativo per quanto con ambizioni relative per quanto sempre nell'ambito del B-movie ma c'è una come dire c'è una un occhio una cura tecnica registica di messa in scena che sta sempre lì tra le pieghe della sciatteria è un film veramente molto curioso perché come dire mi si rincorrevano nella testa delle sensazioni a volte anche opposte ed è per questo che dico che è vero che è un film simile a Asylum e però non solo poi è chiaro non è molto più di più di un grande gioco per ragazzini dentro però in questo mischiare tante cose che non stanno dentro insieme e nel cercare secondo me riuscendoci secondo altri no penso a Staglio Kubrick che è uno dei recensori dei critici e io uso il suo nome d'arte il suo nome vero è Gabriele Gabriele Ferrari dei 400 calci lui dice che non ci riesce per me invece nel trovare questo spirito che è sempre al limite tra l'idiota e l'intelligente anzi che spesso cerca proprio il punto di intersezione tra queste due cose riesce a tenere insieme tre film che non avrebbero niente a che spartire quindi io da parte mia è un consiglio che do però dovete essere avvertiti di che tipo di gioco fa il film e poi ci vediamo ovviamente nei prossimi video nei prossimi live nei prossimi podcast mettete mi piace iscrivetevi e abbonatevi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti